Io sono il Titano! Gormiti! Potenza degli elementi! Energia del magma! Combatti! Koga! Difensore del magma! Molto bene! Chi devo fare esplodere? Niente esplosioni, ma... Vedi quel frammento del cuore del Titano? Su un getto di lava rossa bollente? In mezzo a un campo di geyser? Ci penso io! Questo frammento è potentissimo! Se non avessi i poteri del magma, anch'io non riuscirai a stringerlo! Cos'è? È solo un altro frutto di Zango? Non credo proprio! Dietro di me! Koga! Gormiti Invasori, non siete benvenuti qui? Datemi quel frammento e andate via 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 dalla mia isola! Mostriamogli cosa sa fare un guerriero Gormita! Scudo Volcanico! Gormiti! Potenza degli elementi! Forza del cristallo! Combatti! 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 uo San P肉, Davide! auvuc, è il momento di devoline! Ciao, Trek. Oh! Guardate un po'. Una grande e scintillante faccia di pietra. Dovremmo tremare dalla paura? Scintillante a me? Oh, forte. Merito dei poteri del cristallo. Sono curioso di vederlo in azione. Disporsi in formazione d'attacco. Distruzione! Sì, sei grande, amo! Sì, sei grande. Dormiti raggiungibili Chi vi fermerà? The land is back The legend is back Dormiti 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 Dormiti